Ciao da Lucia, oggi voglio presentarvi questo bellissimo accessorio, il tricottino Caterinetta che troverete nella confezione insieme a quest'altro accessorietto che servirà proprio per lavorare il nostro tubolare. Io ne ho già fatto uno per farvelo vedere, vedete questo qua l'ho fatto veramente in brevissimo tempo e devo dire che per essere il primo mi è già venuto benissimo. Ho trovato vari tutorial in rete ma ho veramente abbastanza fatto fatica a comprendere come funzionasse e quindi mi sono organizzata da sola perché quelli che ho trovato io erano o soltanto visivi o in lingua straniera o non riuscivo a capire effettivamente come funzionasse. Mi sono organizzata e quindi adesso vi faccio vedere come funziona. Allora facciamo, teniamo il filo abbastanza lungo e facciamo il nostro cappietto che infileremo in questo spuntone, in questo aggeggio. E cosa facciamo? Lo facciamo passare all'interno del nostro, aspettate, in questo modo faccio entrare il filo all'interno del nostro tricottino, così. Ecco non servirebbe neanche, vediamo, lo possiamo infilare anche così, vedete? Poi se volete lo tirate con un uncinetto, comunque vedete voi. Quando è dentro il filo lo togliamo da qua e lo mettiamo su uno di questi piolini che terremo verso di noi. Tiriamo e stringiamo il cappietto attorno al piolo. Ora cosa dobbiamo fare? Abbiamo qui il nostro filo, giriamo il nostro aggeggino in senso orario e ci troviamo un piolo vuoto. Quindi andremo alla sinistra del nostro piolo e porteremo il filo alla destra, riportandolo al centro, in questo modo. Cosa facciamo ora? Rigiriamo in senso orario su un piolo vuoto, così. Il filo che abbiamo fatto passare attorno a questo lo teniamo al centro e lo passiamo sempre dalla sinistra verso destra, portando il filo all'esterno. Riportiamo il filo al centro, giriamo, c'è l'ultimo vuoto, quindi da sinistra verso destra e riportiamo il filo al centro. Quindi lo riportiamo da questo lato, al centro, ed ora andremo a lavorare sempre da destra verso sinistra quando li abbiamo tutti. Quindi facciamo uscire il filo alla sinistra del piolo sul quale abbiamo appena lavorato e ora, siccome dovremo stare sempre all'esterno, andremo da destra verso sinistra in questo modo. Ve lo faccio rivedere perché questo è il passaggio più importante di tutti. Allora, il nostro cappio lo infiliamo sul piolo davanti a noi e tiriamo il filo sotto all'interno del nostro tricottino. Dopodiché gireremo, teniamo il primo, appoggiamo il dito così non scappa, così lo possiamo portare verso l'alto, alla sinistra del piolo che dobbiamo sovrastare e gli facciamo un giro in questo modo. Quindi lo riportiamo al centro, teniamo col filo, alziamo, giriamo in questo modo e lo riportiamo alla sinistra in questo modo e gli giriamo attorno, giriamo, lo portiamo alla sinistra e gli giriamo attorno in questo modo. Ve lo faccio vedere per la terza volta, veramente non perché penso che siate stupidi ma perché anch'io ho fatto fatica con i tutorial, questo è il passaggio veramente più difficile. Quindi abbiamo quello con il nodino, questo è il centro, lo portiamo alla, giriamo in senso, si lavora in senso orario, quindi giriamo, anzi no scusate, in senso anti-orario perché questo è il senso anti-orario, quindi giriamo il tricottino in senso anti-orario e facciamo questo, glielo giriamo attorno da sinistra verso destra, passando dall'esterno, quindi giriamo, glielo portiamo alla sinistra, di nuovo da sinistra verso destra, quindi da sinistra il filo passa verso destra, rientra e riesce a sinistra. Di nuovo in questo modo lo portiamo alla sinistra del piolo, gli facciamo fare il giro in questo modo, quindi lo avvolgiamo dall'esterno, da sinistra verso destra. dopodiché iniziamo, quando li abbiamo tutti con un giro, vedete che abbiamo un giro su tutti i pioli. Cosa facciamo? Lo lasciamo proprio alla sinistra di quello appena lavorato e ora andremo avanti in senso anti-orario in questo modo, quindi rimaniamo sempre all'esterno del piolo e facciamo questo, vedete? Quando abbiamo il secondo cappio sul tricottino, con questo spuntone facciamo questo lavoro, lo prendiamo e lo accavalliamo e tiriamo il filo sotto. Quindi, vedete? Mentre girate il filo sovrasta l'altro piolo, quindi prendiamo il filo sotto, i primi giri potrebbero essere duri, poi dopo si allenta e lo facciamo passare sopra. Giriamo, teniamolo morbido il filo e passiamo sopra. Ora avvicino un pelino così potete vederlo meglio. Ecco qua. Giriamo, prendiamo il filo sotto e lo facciamo passare sopra. Giriamo in modo portarci il piolo davanti in questo modo. Giriamo, vedete? Questo è il filo che abbiamo appena messo, questo qua è quello sotto. Prendiamo quello sotto e lo portiamo sopra. Giriamo, prendiamo quello sotto e lo portiamo sopra. Vedete? Giriamo sotto, sopra. Ogni tanto tiriamo da sotto in modo da stringere il nostro tubolare. Sotto, lo portiamo sopra. Giriamo sotto, lo portiamo sopra. Adesso allontano l'immagine così potete vedere veramente la velocità con la quale si fa il nostro. Vedete? Noi giriamo in senso anti-orario il nostro tricottino, caterinetta, chiamatelo come volete e portiamo sopra il filo che sta sotto in questo modo. È veramente semplicissimo. Ci ho messo un po' a capirlo perché non capivo come era la partenza. La partenza è sempre la cosa più importante, la più difficile perché poi il lavoro è sempre lo stesso. Vedete? In questo modo, sotto a sopra, da sotto a sopra, da sotto a sopra, così. È semplicissimo da fare. Così. Ogni tanto tirate il cavo sotto in modo che scenda. Vedete che sta scendendo all'interno del nostro tricottino. Se vi fermate, sappiate che è sempre da lavorare il piolo dopo il filo. Quindi se il filo esce, vuol dire che questo piolo l'abbiamo già lavorato. Se il filo esce alla sua sinistra, vuol dire che questo l'abbiamo già lavorato, dobbiamo lavorare dopo. Se lo lasciate, vi assicuro che non succede niente perché talmente ormai è teso e quindi potete anche lasciarlo lì un attimo, andare a fare quello che dovete fare. Non si sa mai se dovete lasciar lì il lavoro per continuarlo in seguito. Se dovete fare un tubolare molto lungo, può essere che non riusciate a finirlo tutto in un'unica tranche di lavoro. E quindi sappiate che, vedete, è al centro, ma se voi lo lasciate e il filo è su questo piolo, vedete? Se voi guardate bene, viene da questo piolo. Vediamo se si vede che il nodino è su questo piolo e quindi uscirà alla sua sinistra e noi andando in senso anti-orario, questo è il piolo sul quale dobbiamo lavorare. Vedete? In questo modo, così. Perfetto. È di una semplicità estrema e di una... si riesce veramente a lavorare velocemente, oltre che con precisione. Potete fare, appunto, anche con l'uncinetto questo lavoro, ma io trovo comodo questo ferrettino che hanno messo dentro, che in realtà è di plastica. Lo chiamo ferrettino perché è una... sembra quasi... non so se vi ricordate le nostre mamme, le nostre nonne che usavano i bigodini e avevano questi... questi spuntoni per infilarli nei bigodini. A me ha ricordato molto il bigodino della nonna, diciamo, perché mia mamma non li usava, usava già... Mia mamma è giovane, molto giovane, il bigodino non si usava già più quello con questi... con questi spuntoni qua. Si usavano già quelli con gli elastici, quelli un po' più moderni, diciamo. Intanto io vi sto facendo vedere come si va velocemente. Vedete? Girate e accavallate, girate e accavallate, girate e accavallate, girate e accavallate. In questo modo. Vedete che è molto più morbido il filo? Se si indurisce vuol dire che dovete tirare quello sotto. Io vi consiglio di farlo ogni tanto, perché sennò rischiate di tirar dentro qualche filo del lavoro già fatto. Perché comunque può essere che riusciate a... io l'ho fatto, infatti se vedete c'è qualche imperfezione nel primo che ho fatto, perché appunto avevo tirato dentro qualche filo sul tubolare già lavorato, perché è appuntito questo. Quindi può essere che entriate dentro nel tubolare già lavorato, però vedete si va molto facilmente. Poi questo se lo infilate, lo infilate dritto, ma poi lo mettete in diagonale per tirar sul filo, che rimane molto semplice. Vedete? Entrate così e poi così, così. Vedete? È velocissima la cosa. È molto veloce, molto pratica. Guardate già dove siamo. Siamo già sotto. Quindi, volevo arrivare sotto per farvi vedere come si chiude. Volevo farvi vedere proprio... Giusto per farvi vedere in tempo reale. Vedete? In dieci minuti ho perso tantissimo tempo con la spiegazione di come si infila, ma ho già fatto un bel pezzo di tubolare. Quindi volevo farvi vedere proprio in tempo reale la velocità. Perché se io stoppo, voi non riuscite a capire quanto veloce è questo procedimento. E quindi volevo proprio darvi la sensazione giusta della velocità di questo lavoro. E' molto veloce. Vedete? Io poi ci sto prendendo gusto, devo dire che... Poi lo userò anche per decorare qualche mia creazione, questo tubolare. Perché effettivamente per decorare è anche carino, eh? Si possono fare delle cose carine con i tubularini. Però appunto adesso volevo farvi vedere in sé come si usava questo aggeggio. Che veramente costa una stupidaggine. Perché io in merceria l'ho pagato 8 euro, ma so che su Amazon forse si trova anche a 6-7 euro, 5 euro. Poi non lo so con le spese di spedizione come funziona. Io ho Amazon Prime e con Prime per esempio non ho le spese di spedizione. Quindi in realtà non vado a spendere niente per la spedizione. Vedete? Qua si è sfilato un po' il filo. Ma adesso io lo tiro da sotto. Vedete? Se io lo tiro da sotto, mi si mette bene il filo. Ma qua è un problema di filato, non è un problema di tricottino. È proprio che il filato sia aperto, vedete? Allora facciamo in questo modo e facciamo in modo da... Ecco qua, sono riuscita. Qui è perché ho infilato il ferretto dentro nel filato e quindi si è sfaldato. Ma non ha niente a che fare con questo aggeggio. Io direi che essendo arrivata già bella sotto, perché vedete, guardate, sono già uscita. Adesso vi faccio vedere come si chiude. Allora, per chiudere non facciamo altro che sollevare questo. Mi sono fermata proprio sul... E lo mettiamo su questo. Vedete? In questo modo. Tenete sempre saldo il filo, eh? Tenetelo sempre alla sinistra del lavoro. Adesso andiamo su quello sotto e sovrastiamo quello sopra. Quindi lo accavalliamo. Tiriamo bene il filo. Solleviamo quindi questo. E lo portiamo sul piolo a fianco. E portiamo da sotto. E lo accavalliamo. Riprendiamo questo. E lo mettiamo sull'ultimo piolo. Qui. Al massimo allargatelo un pelino. Perché l'ultimo può essere difficoltoso da... Ecco qua. L'ho infilato. Teniamoli tutti e due. Magari stringiamo un attimino. E cosa facciamo? Di nuovo accavalliamo. Aspettate, ne ho perso uno. Ecco qua. Si è sfilato. Ma se il teniamo col dito... Ecco qua. Ora io per sicurezza farò un giro. Quindi prendo il filo, lo porto davanti e lo lavoro come se stessi facendo proprio un normale giro. Perché voglio fare... Eccolo qua. Si è sfilato. Fa niente. Vedo che non ce n'è bisogno. Non ce ne sarebbe bisogno in realtà. Però io preferisco farlo. Se no finite con l'uncinetto. E faccio quello classico di sicurezza. Allora, quello classico di sicurezza. Facciamo in questo modo. Guardate. Lo allungo. Lo faccio con le dita. Gli faccio un nodino di sicurezza. Avrei voluto farlo sul piolo ma mi è scivolato. Quindi faccio il classico nodino di sicurezza. Ora vado a spezzare il filo. Perché ho dimenticato di là il tagliafili. E vedete? L'ho chiuso normalmente. Quindi questo è l'inizio. E questa è la fine. E abbiamo il nostro bellissimo. Guardate che bello. Fatto in pochissimo tempo. Di una precisione. Perché guardate. È proprio bello preciso. Preciso. Molto bello. Da vedere. E molto facile da fare. Quindi riponete il ferrettino al centro. Così rimane bello incastrato e non lo perdete. E riponete la vostra caterinetta. Tricottino. Tricotin. Chiamatelo come volete. Nel vostro astuccio degli accessori. Allora, io spero di essere stata chiara in questo tutorial. Io ho trovato questo attrezzino. Molto facile. Carino. Mi rende molto più veloce la lavorazione del tubolare. Ovviamente se voglio fare un tubolare più grosso ci sono varie misure. Ma se lo voglio fare a 5, a 6 ovviamente non posso usare questo. Perché con questi pioli, vedete, si lavora solo a 4. Io appunto vi saluto. Spero di essere stata chiara. Vi invito sempre a venire sul gruppo Facebook Creando con Luce Franci. Cosa dire di più? Se vi è piaciuto mettetevi, mettete tanti mi piace. E nei commenti. E al prossimo tutorial. Ciao, ciao da Luci. A presto. Ciao, ciao.